Sala consigliare del Comune di Subiano, sabato 7 maggio alle ore 18, un appuntamento con un libro. L'appuntamento è Storie da pubblicista di Giuseppe Russo, promosso dall'Associazione Quelli della Carin, che sono dedicate proprio al Museo della Seconda Guerra Mondiale, perché naturalmente all'interno di questo libro ci sono momenti importanti che ricordano il museo, i ritrovamenti e soprattutto anche un luogo che è stato protagonista della Seconda Guerra Mondiale, il Castello di Valenzano, scritta quest'opera dagli Arubecchi. Ci troviamo qui nella Sala del Consiglio, ospiti dell'amministrazione comunale che ha patrocinato anch'essa questo evento, insieme al Museo della Carina e con Giuseppe Russo. Giuseppe Russo è un ritorno, era stato qui da noi, invitato da me nel 2019, con una trilogia chiamata I Caduti di Pietra, sempre per quanto riguarda i ricordi sulla Seconda Guerra Mondiale. Oggi sì, non probabilmente si legge con scioltezza, perché sono tutta una serie di appunti, di ricordi che investono anche il nostro territorio. Questo ci ha fatto molto piacere, perché ci sono tre ricordi, come hai detto, che riguardano il Museo della Carina, riguardano il Subbiano, riguardano l'attività di un privato. E soprattutto il Castello di Valenzano. Qui l'abbiamo voluto ricordare, e ce l'ha chiesto espressamente a me e a Lea, di ricordare un posto, un luogo che fosse stato sintomatico e particolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo voluto l'opportuno ricordare quello che è successo all'interno del Castello di Valenzano. Lo racconteremo quella sera stessa. Ma questo libro di Russo, veramente, si legge in maniera vincente, perché sono tante piccole storie che fanno parte del nostro tessuto italiano. Perché si parla, per esempio, inizia con la storia abbastanza funambolica delle ossa di Dante ritrovate da Scoste a Ravenna, fino ad arrivare alla tragedia di Ustica del 1980. In questo spaccato ci sono tante storie che riguardano soprattutto le storie del Sud, di Napoli, di Palermo, della Calabria, della zona della Ciociaria, di Ceccano. Ma raccontate con un piglio giornalistico molto avvincente. Questo è un po' volevo dire tindisi. Qui ci fa piacere che Russo di nuovo venga a presentare qui, nella sede del Consiglio Comunale, come fece nel 2019, questa sua opera. Giuseppe Russo è un giornalista, un giornalista pubblicista, storia da pubblicista, una serie di racconti storici, naturalmente bene identificati e soprattutto anche puntuali, molto precisi, che raccontano questo spaccato della vita d'Italia legato in modo particolare proprio alla storia della Seconda Guerra Mondiale. In questo contesto si inserisce anche il Castello di Valenzano con quest'opera che è stata scritta dagli Arubichi insieme a Luciano Maestrini. L'amministrazione comunale di Subbiano ha dato il patrocinio alla presentazione di questo libro con questa organizzazione che è dell'Associazione del Museo di Quelli della Carin e che credo che sia importante perché la lettura e la storia si possono anche naturalmente tramandare attraverso libri importanti come questo di Giuseppe Russo. Sì, a noi ci fa particolarmente piacere ospitare nuovamente Giuseppe Russo in questa sala, tornare a ripetere un'esperienza piacevole che abbiamo avuto all'inizio del nostro percorso amministrativo, allora quando sempre su iniziativa dell'Associazione Quelli della Carin, Giuseppe Russo è venuto presso la nostra sede, abbiamo instaurato un rapporto amichevole che dura ormai da tre anni e ci fa molto piacere che l'Associazione Quelli della Carin abbia voluto nuovamente proporci questo progetto, questa presentazione di questo progetto che valorizza sicuramente la professionalità di Giuseppe Russo e di tutti coloro che hanno collaborato alla stesura dei vari articoli, tra cui naturalmente la nostra, possiamo chiamarla così, nostra, Lia Rubecki. E l'altro aspetto piacevole direi è l'impegno che l'Associazione sta mettendo, sempre dal punto di vista di voler tenere viva la memoria storica, quindi documentare e tenere viva questa memoria. Siamo in un periodo, quello appunto appena trascorso, dove l'Associazione Quelli della Carin è tornata nuovamente a vivere e a far vivere tanti progetti e tante iniziative che stanno facendo, ci stanno coinvolgendo nei loro progetti e noi accettiamo sempre di buon grado appunto queste proposte che ci vengono formulate. Segno naturalmente di un interesse che le associazioni del territorio mettono, segno di una volontà che l'Associazione Quelli della Carin sta mettendo in questo progetto appunto condiviso con l'amministrazione comunale, segno da parte nostra di accogliere, di voler far in modo che la cittadinanza sia resa idotta di tutto quello che è il lavoro che viene fatto dalle nostre realtà associative e naturalmente anche dai professionisti e da tutti coloro che si dedicano con così tanta cura a valorizzare tanti aspetti più o meno conosciuti che afferiscono anche al nostro territorio. Storie di uomini, storie da pubblicista, storie di guerra naturalmente, di caduti con tanti patrocini. Infatti questo, non l'ho detto prima, voglio ripeterlo, che fa veramente piacere vedere il nostro Museo dell'Academia di Subbiano inserito con altre associazioni culturali che fanno più o meno lo stesso lavoro, anche se molto più grande. Noi siamo un po' piccoli rispetto a chi si va dall'Associazione Culturale Bunke Sorate di Roma, al Museo Historicus Caspoli Mignano Montelungo di Caserta, al Museo Accademia Vitti di Atina, al Museo La Tratta di Copparo Ferrara, all'Associazione Clare Museo di Cassavatore, all'Associazione Archeologi dell'Aria di Ferrara, all'Associazione San Pietro Infini di Caserta e al Centro Studi Cassinati di Cassino, all'Associazione La Fonte delle Musee di Afragola. Quindi tutte associazioni di questo tipo che fanno questa attività di divulgazione sulla quale questi musei vengono frequentati dalle scuole. E ultimamente, devo dire che anche al Museo di Subbiano già iniziano a ritornare le scuole, sia di Subbiano, credo prossima settimana verrà una scuola media di Bibbiena, a visitare il nostro museo. Questo era un po' lo scopo che ci siamo prefissi fin dall'inizio con l'amministrazione, con l'Associazione della Caribe, di farti che il museo sia vivo e che soprattutto le giovani generazioni vengono a visitarlo. Quindi le storie da pubblicista di Giuseppe Rizzi si inseriscono molto bene in questa attività che il museo sta portando avanti, sulla quale noi diamo la massima collaborazione. Sabato 7 maggio, ore 18, nella Sala Consigliare del Comune di Subbiano, storie da pubblicista, dove si parla anche di Subbiano, insieme a Giuseppe Russo, che è autore, che è un giornalista e che ha trascritto queste storie particolari che riguardano un po' tutta la nostra Italia nel periodo naturalmente anche della guerra.